Amici amici di Volumbrite, siamo sempre qui ai Giardini Reali, per rinaugurazione di Spazi Reali abbiamo l'assessore ai diritti della città di Torino, Marco Giusta, che ringraziamo sempre per la disponibilità a cui chiederemmo qual è il ruolo dell'assessorato ai diritti dentro Spazi Reali il ruolo effettivo, pratico all'interno di questo bellissimo posto Il bello di questa progettualità è che c'è una sinergia che nasce all'interno dell'informa giovani quindi c'è uno scambio di iniziative, pratiche, modalità e scambio anche di utenze possono esserci degli invii che arrivano dall'informa giovani che vengono qua e contestualmente all'interno di questi spazi si possono sviluppare delle pratiche che possono essere incubate successivamente all'interno delle politiche giovanile per diventare buone pratiche all'interno dell'amministrazione il vantaggio è che in questo posto ci sono come all'informa giovani tantissime associazioni, tantissime realtà che collaborano e quindi possono sviluppare dei progetti di animazione sul territorio di prevenzione del disagio e di incontrare i giovani nei loro percorsi di vita dandogli anche altre opportunità Benissimo, mi sembra molto interessante Assessore ai diritti, quindi qual è l'importanza di affermare in questo contesto storico e politico particolare i diritti per i più giovani? I diritti dei più giovani secondo me nascono principalmente dal riconoscimento delle loro istanze, delle loro necessità e molto spesso all'interno della scena pubblica, del dibattito pubblico le istanze dei giovani non vengono ascoltate quello che noi stiamo cercando di fare è provando a costruire delle politiche insieme ai giovani per i giovani e quindi non fare delle politiche che in qualche modo sono sulla testa passano sulla testa dei giovani ma coinvolgerle attivamente cercando di capire come loro vedono la società anche perché la società dei giovani, il futuro dei giovani abbiamo avuto anche recentemente molti esempi di giovani che hanno voluto riprendersi un po' la parola, riprendersi la scena e ci stanno facendo vedere un'altra idea di società dove le persone sono maggiormente incluse dove alcuni diritti come ad esempio quelli dell'ambiente vengono portati avanti con più forza e ci stanno anche un po' dicendo che ci dobbiamo dare una mossa per portare avanti queste iniziative In chiusura un invito a tutti i giovani torinesi a frequentare spazi reali Ma questo spazio nasce all'interno di una progettualità ma è anche un luogo fisico questo parco è bellissimo quindi durante l'estate vi invito a venire a prendere il sole qua e a conoscere le associazioni e le varie attività e l'animazione che verrà fatta sul territorio perché qua diventa un nucleo molto importante molto fondamentale all'interno di questo progetto che grazie all'assessorato del welfare con Sogna Schellino e grazie al contributo che l'assessorato dei giovani può dare e gli uffici dell'informa giovani possono dare può diventare un nucleo e un punto di partenza per tantissimi progetti Venite a proporci idee, noi siamo qua a aspettare Grazie assessore e buon lavoro Grazie a voi